Come sentivamo il giorno della memoria dedicato alle vittime dell'Olocausto, allora partiamo da Cagliari dove oltre 500 studenti hanno partecipato all'iniziativa organizzata dalla Prefettura. Chiara Zammitti. Flauto, viola e contrabbasso suonati da Sara Mameli, Chiara Moccia e Francesco Sergi. E la musica degenerata, quella proibita dal nazifascismo, scritta nei campi di concentramento. Una delle esecuzioni previste per questa giornata dedicata alla memoria, organizzata dalla Prefettura di Cagliari, musica e letture per non dimenticare. Durante lo sterminio, nei campi di concentramento, i reclusi, gli ebrei, studiavano musica e componevano poesie per sfuggire all'obrobrio della guerra. Quindi per sfuggire all'obrobrio la cultura è l'antitodo essenziale. E tramite la cultura di quei tempi noi ricostruiamo le sensazioni delle persone, padri, madri, figli, nipoti, cugini, che hanno subito l'obrobrio della sciola. Oltre 500 di studenti presenti di diversi istituti superiori di Cagliari, Decimumannus e Largius e Quartu, le letture tratte dall'Inferno di Treblinka di Vassili Grossman. L'abbiamo scelta insieme con la Prefettura per rimarcare il fatto che il meccanismo con cui è stato perpetrato l'olocausto era un meccanismo applicato alle bestie, era un meccanismo applicato agli oggetti, non alle persone. C'è una crudeltà, un cinismo, un'attenzione maniacale malata nello sterminio che lascia senza parole. Grossman riesce a trovare parole per l'orrore ed è una delle cose più difficili da fare in letteratura. Ad aprire la giornata la consegna alla figlia Gabriella della medaglia d'onore del Presidente della Repubblica in memoria di Francesco Fois, monserratino deportato durante la guerra.